La misura finanzia impianti di arboricoltura da legno o impianti permanenti, boschi, imboschimenti, però anche specie a ciclo breve sarebbero i pioppi, pioppicoltura. Gli obiettivi sono quelli di stoccaggio di carbonio, quindi di investire terreni agricoli o non agricoli con culture permanenti, più o meno permanente insomma, e quindi stoccaggio di carbonio con tutti i benefici che ne derivano per quanto riguarda l'ambiente, la biodiversità e la tutela della flora e della fauna. I beneficiari sono tutti, è importante che abbiano un titolo riconosciuto di possesso dei terreni agricoli, che dalla proprietà all'affitto tranne il comodato d'uso. Su questo bando sono 10 milioni e noi finanziamo con questi 10 milioni soltanto i costi di impianto, perché come ho già detto, poi dopo laddove sono riconosciuti vengono pagati anche dei premi annuali per la manutenzione per 12 anni o la perdita di reddito se erano terreni agricoli, cioè terreni sottratti alla normale coltivazione.